Ciao a tutti, Barrette e Barrettine Ciao Allora, oggi facciamo un video con il regalino che ho comprato per bianco, un premio perché si è esibita, ha cambiato la canzone è stata bravissima, anzi poi lo pubblichiamo e ora vi facciamo vedere come lo scattiamo Forza bianca noi prendiamo Allora, facciamolo vedere L'ho scelto io Che cos'è? Fast food hamburger mania 5 in 1 Scartiamo Allora ragazzi, ecco cosa c'era all'interno Guardate, tipo il cioccolato Vediamo Allora, hamburger pollo, hot dog salse patatine, bevanda, gelato insomma, tipo McDonald's in poche parole Il nostro Mac Hamburger set Vediamo cosa c'è qui dentro Questo praticamente sarebbe la tua panineria Vediamo Dovremmo attaccare i stickers Ah, qua dobbiamo montare tutto Vedi, ancora qua abbiamo qualcosina Facciamolo vedere Cosa c'è? Mettili qua Il pane Cos'è la bottiglia d'acqua? Adoro Latte Ah, latte Poi un muffin Ah, perché si possono fare anche le colazioni Va bene Allora, facciamo una cosa Sistemiamolo tutto E lo facciamo vedere montato Va bene Dai Allora, ragazzi Guardate che spettacolo C'è tutto Tutto quello che serve ad una panineria Bar Qui abbiamo tutti i prodotti per la colazione C'è il gelato I pop corn La ciambella I biscottini I cioccolatini Vuoi assaggiare? Assaggiare? Ah, com'è? Buonissimo Veramente ottimo Vuoi assaggiare anche il biscotto? Vediamo Mmm Gustoso Gustosissimo Poi abbiamo gli hamburger Vedi, le patatine La coca cola Ah, buonissimo Abbiamo tutti Il muffin Cioè, ragazzi Vi prego Ma è meravigliosa questa cosa Troppo meravigliosa Anche i lecca lecca abbiamo Mmm 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 Ah, il gelato Il gelatino Ice cream E tra l'altro Questa valigetta Volendo Ora non la possiamo chiudere Si può chiudere E portare dietro Quindi come una borsetta E poi ci sono i lacci Ci sono i lacci Perciò, ragazzi Cosa ne pensate? Se questo video Vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate una campanellina E mettete un like Un bacione Ciao Un sacco Un sacco